Torna la Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Acqualagna, con degustazioni, stand gastronomici, musica e spettacolo, laboratori per bambini e poi la gara delle città del tartufo e i cooking show dei grandi chef. Dal 28 ottobre al 12 novembre, Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Acqualagna. La capitale del tartufo ti aspetta!